Buonasera, sono Daniele Guaschino, delegato di Casale Monferrato dell'Associazione Italiana Sommelier. Questa sera vorrei parlarvi di un'iniziativa che ha voluto fortemente il Comune di Casale. In testa l'assessore all'agricoltura Daniele Sapio, saremo ospiti della tradizionalissima festa del vino, con 5 appuntamenti veramente di eccezione. Partiremo sabato, innanzitutto sono degustazioni alla cieca aperte a tutti, con un prezzo speciale, 10 euro, grazie al contributo anche del Consorzio Colline Monferrato Casalese per quel che riguarda i vini, ovviamente. Partiremo sabato 19 alle 17.30 al castello con il presidente dell'Ais Piemonte, Fabio Gallo, un grande esperto, che condurrà una degustazione di grignolino di varie annate. Andremo a capire se il grignolino può essere affinato in legno e qual è la sua longevità. Pensate che andremo indietro fino al 2010 con un'annata spettacolare tra i vini molto interessanti. Continueremo sabato sempre alle 17.30, sempre al castello, appuntamento aperto a tutti, con i bianchi. Monferrato è terra di rossi, però ci sono anche dei bianchi molto interessanti e vorremmo presentarvi anche qui tre vini in degustazione alla cieca. Lunedì sera invece appuntamento riservato agli operatori, solo su invito, per parlare del vino del Monferrato nella ristorazione. Continueremo poi la settimana prossima, quindi il sabato prossimo sarà dedicato alle Barbere. Tre vini sempre alla cieca con diverse tipologie di affinamento per la Barbera del Monferrato Casalese. E in ultimo, domenica 27, un appuntamento per dei vini veramente di nicchia, però molto interessanti. Gabbiano e Rubino di Cantavenna, due doc molto piccole delle nostre colline che però non devono assolutamente essere dimenticati. Quindi questi i prossimi appuntamenti alla festa del vino, però voglio anche ricordarvi, sempre grazie all'assessore agricoltura Daniele Sapio, al contributo di state e ai produttori del Consorzio Colline Monferrato Casalese, abbiamo avviato un tour presso tutte le aziende vinicole della zona, sono una ventina che visiteremo da settembre fino ad aprile prossimo, con un gruppetto di sommelier che vorrebbero e sicuramente diventeranno ambasciatori del vino del Monferrato. Qui siamo a Cascina Faletta e stiamo ultimando il corso per diventare sommelier, a Natale avremo sicuramente un'altra ventina di sommelier a Casale. AIS, Associazione Italiana Sommelier, in Italia sono più di 40.000 soci, a Casale siamo già più di 200 iscritti e a dicembre saremo più 20 probabilmente. Grazie dell'attenzione, vi aspetto alla festa del vino. Grazie a tutti.